Le inchieste continuano sempre nuove indiscrezioni che mettono alcuni esponenti del governo in difficoltà. Ecco, su Cosentino voi che cosa chiedete, le dimissioni? Sembra di essere la fine di un impero in cui tutto crolla e soprattutto cala il livello di rigore che ogni uomo politico deve sempre mantenere. E' per questo che noi riteniamo che i sottosegretari Caliendo e Cosentino debbano andarsene via immediatamente, debbano dimettersi e se questo non succederà noi non esiteremo a tutte le iniziative parlamentari per portare a questo risultato.